Facciamo la sfida! Vai! Ecco la sfida impossibile fra Martino in Do, partendo da Do, da Re, da Mi, da Fa, da Sol, da La e da Si. Vediamo chi ci riesce. Poi sotto me lo dovete dire se ce l'avete fatta. Io sono convinto che parecchi di voi ce la faranno. Via! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!